non c'ha posso fa più non ce la posso fare più cosa abbiamo fatto di male siamo anche sotto natale no uno si aspetta che certe cose non avvengano sotto natale prima di parlare di parma spalla vi ricordo ragazzi come sempre che questo video è sponsorizzato da one football che la migliore applicazione in assoluto per quanto riguarda le news e le notizie sportive trovate il link per poter scaricare questo in descrizione tra l'altro c'è un giveaway che è fantastico per poter vincere una maglietta o due biglietti per la propria scuola del cuore basta che inserite il titolo del primissimo articolo che trovate su one football il vostro nome e cognome la vostra mail i vostri dati quindi e potrete vincere questi fantastici premi appunto inserendo anche la propria scuola del cuore perché no potreste andare a vedere la partita nella vostra squadra preferita link in descrizione per poter partecipare a questo giveaway è bello sarebbe mettersi qua sfogarsi dire tutto quello che si pensa mandare a quel paese destra e sinistra iniziare a chiedere la testa di chiunque sarebbe proprio bello potersi metterli e ma dopo tre anni passati in questo modo passati quasi in terapia no si si è anche ormai arrivati a un punto in cui uno dice basta cioè perché mai devo continuare a sbattere la testa continuamente farmi del male da solo guardando queste partite di questa squadra che veramente tra l'altro farvi notare anche se siamo in clima natalizio c'è questo maglione che è bellissimo detto da che forza porta forse porta bene però sai non avevo visto che effettivamente veniamo da morto qualcuno qua dietro veniamo da una vittoria dopo una sconfitta quindi dopo una sconfitta una vittoria sappiamo già matematicamente che il risultato successivo è appunto ancora una volta una sconfitta terza sconfitta in casa ancora una volta perdere per uno a zero con un gol che ci siamo fatti da soli io ho mai visto una squadra perdere una partita con 18 calci d'angoli a favore senza subire nemmeno un tiro in porta difficilmente ho visto una roba del cenere in 31 anni di vita però sì siamo il parma e sono tre anni che ci va così sono tre anni che praticamente da quando abbiamo un nuovo presidente che praticamente è il nuovo remida del calcio italiano dove tocca lui non diventa nulla oro ma sapete che cosa succede perché praticamente il parma perde in ogni dove perde 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 in prima squadra perde nel calcio femminile perde nelle giovanili abbiamo infortuni da record in tutti i settori sebbene comunque non sia colpa sua da questo aspetto perché comunque l'investe ci crede molto l'altro mi viene da dire io una chiamata da un esorcista qualcuno veramente ormai inizierei a farmela perché non è non è oggi veramente non è normale quello che è accaduto cioè oggi abbiamo ripeto fatto 18 calci d'angolo cioè la spalcia è chiusa sì ma colpo di testa di denis manco il giocatore della spal che la salva sulla linea scusatemi di vasquez perché ho detto denis man con il difensore che la salva sulla linea 18 calci d'angoli azioni su azioni anche le espulsioni nette chiare gigantesche diventano poi ammunizioni l'arbitro che veramente da due in pagella io non so cosa dire non so cos'altro dire non tanto qua mi fanno invasione di campo proprio in questo momento mentre registro il video ciao quindi qua purtroppo papà è triste e arrabbiato per la sconfitta qua devo aggiustare qualcosa comunque per la sconfitta e non c'è altra soluzione non c'è altro modo di cui non c'è nulla da dire cosa vuoi dire di più è una replica delle cioè vi andate a prendere i post partita fatti gli anni passati due anni fa in serie a l'anno scorso con gli achini e con maresca vi andate a prendere il post partita fatto contro il su tirolli uguale identico uguale identico solo che fatto in casa uguale identico non c'è nient'altro da dire di più di meno zero c'è una squadra che in un modo nell'altro perde cioè vi stravince a livello di possesso palla di calci d'angoli di azioni di tiri in porta perdi 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 una volta vince una volta perdi in questo caso perdi e se vogliamo arrivare in serie a così non lo so siete contenti voi siete contenti voi secondo me a questo punto però ragazzi ve lo dico c'è da fare qualcosa a livello di testa di testa e di testa perché non è neanche normale che che il parma in ogni dove basta che ci sia scritto parma stia facendo queste figuracce ovunque quindi c'è c'è veramente qualcosina da intervenire in generale detto questo ragazzi vi abbandono perché non c'è veramente null'altro da dire vi aspetto questa questa settimana durante le live di di contro calcio perché parleremo ovviamente di questione stadio e del futuro del parma calcio in generale di quello che sta accadendo fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate voi della partita lascio parlare voi perché veramente senza parole ciao papiros